Il progetto è stato molto carino, mi è piaciuto molto dipingere, fare i pesciolini, le farfalle. Mi è piaciuto perché passava il tempo, comunque erano belli animali, colorati. È stato bello, mi sono divertita, mi è piaciuto colorare con voi. Mi è piaciuta questa attività perché ce l'hanno gli animali dentro. Mi sono sentito più felice, contento. Mi sono sentito felice, bene e felice. La ricla si mi draga da me nebulis, i da gelis rastanam da me o stavi. Tutto, tutto mi è piaciuto, a me mi piacciono le cose che portate. Le farfalle colorate. La cosa che mi ha colpito il più è stata quella farfalla blu. Troppo bella quella farfalla, mi piace. Mi ha colpito la cimia imbalsamata. A me è piaciuto il serpente. Le farfalle. Le farfalle sono più belli. Ti fanno la gioia di vederli, ti dà felicità quando vedi la farfalla, ti dà un po' un senso di felicità. Le farfalle durano anche più di un giorno. Ho imparato per animali chi sono i maschi o la femmina. Sono felice di aver imparato qualcosa. Dei maschi e i femmini, mi sono imparato. Che il colore dei maschi è più bello e il colore dei femmini è di meno. Tipo ad esempio i capi branchi delle scimmie, sono più colorati. Ho imparato un po' a disegnare, a sapere degli animali, quelli femmine, quelli maschili colorati. Sì, 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 è troppo bello. Mi piacerebbe se così imparano altre cose, no? Mi piacerebbe se così è di zoologia, ritornerebbe qua, così. Stiamo bene. Ma se sto ancora qui, sì, mi piacerebbe. Così passerebbe un po' il tempo un po' più veloce. La tigre. Mi piacerebbe se porteraste la tigre. Mi piacerebbe fare la tigre all'aperto. Nero Celeste Nero Rosso Grigio Giallo Marrone, grigio Fuzchia Grigio Rosso e nero Viola Giallo e rosso Bianco e nero Giallo Bianco Rosso, giallo, verde e blu Reclasi mi draga Da me ne bolis I da gelis rastanam Da me ostavi Mo'yateška suza Teška c'è preboliti Tvoja nuva iubam Ne c'è trajati Grazie per tutto Grazie per tutti